Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologia spiegata in modo semplice e comprensibile per tutti. Nel video di oggi purtroppo non ho nessun prodotto da farvi vedere o da recensire, ma voglio fare un po' di sana polemica, che è la cosa che poi alla fine mi riesce meglio. Chi di voi mi segue da tanto tempo saprà benissimo che nel vecchio canale avevo fatto un video dove andavo a elogiare e a mettere in evidenza tutti i punti di forza del servizio Tutto Subito, che è quel servizio del portale Subito.it che di fatto permette di vendere o comprare i prodotti all'interno del portale in massima sicurezza. Piccola premessa per chi non conosce Subito o Tutto Subito, allora Subito.it è uno dei siti italiani più famosi per comprare o vendere prodotti usati. Io lo uso tantissimo per vendere tutti i miei prodotti, sono parecchi anni che lo utilizzo e sono rimasto sempre molto contento. Il problema di questa piattaforma in passato era rappresentato dal fatto che era facilissimo incappare o incorrere in delle truffe. Ecco, per evitare tutti questi problemi, Subito.it ha introdotto da qualche anno ormai la funzione Tutto Subito, cioè il sito funziona da intermediario tra acquirente e venditore e chiaramente dietro al pagamento di un'assicurazione che è anche abbastanza cara, garantisce sia acquirente che venditore. Tramite il servizio Tutto Subito infatti viene gestita non solo la spedizione, ma c'è anche un'assicurazione che protegge l'acquirente nel caso in cui il venditore non vada a spedire il prodotto o ci siano dei problemi. Come ho già detto, io ho utilizzato tantissimo questa piattaforma in passato e utilizzo tantissimo anche il servizio Tutto Subito, perché è vero che costa abbastanza caro, alla fine però lo paga l'acquirente, è chiaro che poi dopo l'acquirente chiede un piccolo sconto sul prezzo finale, ma va bene perché è un servizio che va a tutela mia e dell'acquirente. Io preparo il mio prodotto, lo spedisco, faccio anche due foto e due video per far vedere che funziona al momento della spedizione, l'acquirente lo paga, ma i soldi non arrivano subito a me, vengono trattenuti dalla piattaforma Tutto Subito. Nel momento in cui il prodotto arriva, l'acquirente conferma che il prodotto è esattamente quello che ha ordinato e tutto funziona correttamente, solo a quel punto Tutto Subito mi sblocca i soldi. Ecco, dopo questa doverosa premessa per spiegarvi un po' come funzionano Subito e Tutto Subito, devo dirvi che nonostante abbia utilizzato questo servizio per parecchi anni, adesso qualcosa non sta più funzionando come dovrebbe. Recentemente infatti ho venduto un aspirapolvere lavapavimenti su Subito.it, come al solito tramite Tutto Subito. Ho preparato il pacco, l'ho spedito, ho fatto le foto, ho fatto i video e l'ho inviato al mio acquirente. Purtroppo però, per colpa mia, mi sono dimenticato di svuotare il servatoio dell'acqua pulita dell'aspirapolvere lavapavimenti. Chiaramente cosa è successo? Durante il viaggio il pacco è stato sballottolato e anche se era impacchettato bene, l'acqua è fuori uscita e ha rovinato lo schermo e il motore dell'aspirapolvere, che di fatto non funziona. L'acquirente mi ha contattato quando il pacco è arrivato, mi ha fatto vedere con foto e video che non funzionava e a quel punto io non potevo fare niente, se non dirgli che mi dispiaceva, purtroppo ho sbagliato, capita anche a me, sono un essere umano, posso sbagliare, mi dispiace molto. Gli ho detto, guarda, apri la contestazione con Tutto Subito, si occuperanno di tutto loro. Tutto questo però solo sulla carta, perché in realtà Tutto Subito non sta facendo un bel niente. Nel momento in cui sto registrando questo video è passata esattamente una settimana, sette giorni, cioè cinque giorni lavorativi e sette giorni totali e al momento attuale la piattaforma Tutto Subito non ha fatto niente di niente. L'acquirente ha aperto la contestazione, ha segnalato il problema e tra l'altro io sono disposto ad annullare la vendita e a ridargli subito i soldi, se fosse per me gliele avrei già ridati. Il problema è che Tutto Subito deve intervenire col suo team, analizzare la situazione, contattare ovviamente l'acquirente, che è già stato fatto perché è stato l'acquirente ad aprire la contestazione, ma il team deve contattare anche il venditore per sentire quindi la controparte e valutare che cosa fare. In questo caso però la soluzione è molto semplice perché io voglio annullare la vendita e ridare i soldi al mio acquirente. Il problema è che il team di Tutto Subito, nonostante siano passati sette giorni, non mi ha ancora contattato né per iscritto né via telefono. Io in questo momento non posso fare niente se non aspettare e giustamente il mio acquirente è incazzato nero perché ha i soldi fermi, un prodotto che non funziona tra le mani e non può fare nulla, nonostante varie sollecitazioni al team di Tutto Subito. A questo punto io dico che senso ha pagare un servizio che costa caro perché, ripeto, costa molto caro tra spedizione e assicurazione, si pagano delle cifre importanti se poi quando c'è bisogno questo servizio non interviene. Non c'è modo di contattare nessuno, non c'è modo di contattare un servizio clienti, non c'è un numero verde, non c'è una chat. Qualche anno fa, ripeto, Tutto Subito funzionava bene, era molto efficiente, ma a questo punto devo rimangiarmi tutto quello che ho detto fino ad oggi del servizio Tutto Subito e personalmente, dopo questa esperienza assolutamente negativa, non lo utilizzerò più. Andrò invece a utilizzare una spedizione gestita da me e utilizzerò come metodo di pagamento PayPal che normalmente va a tutelare soprattutto l'acquirente e tra l'altro con tutti i limiti e problemi che ha PayPal in generale ha sempre funzionato bene e quando c'è da aprire una contestazione il team interviene nel giro di pochi giorni al massimo, a volte addirittura anche entro poche ore. Quindi ragazzi, questo è un primo video che sto facendo sul servizio Tutto Subito perché come avete immaginato la questione è ancora aperta, però come vi ho già detto dopo sette giorni ancora nessuno si è fatto sentire. Chiaramente arriverà un secondo video dove andrò a spiegarvi come è finita questa vicenda, io spero per il mio acquirente nel migliore dei modi, ma comunque sottolineo che in questo momento io non ho ricevuto i soldi e soprattutto il prodotto è ancora nelle sue mani, quindi sia io che lui siamo assolutamente scontenti perché nessuno riesce a risolvere questa situazione e tutto subito non si fa sentire. Detto questo, iscrivetevi al canale se volete sapere come finirà questa vicenda, ammesso che qualcuno di tutto subito si faccia sentire perché comincio a avere qualche dubbio, ma soprattutto se avete qualche esperienza con il servizio Tutto Subito fatevi sentire qua sotto nei commenti perché sono curioso di sapere se sono stato sfortunato io in questo caso o se effettivamente il servizio Tutto Subito ha iniziato veramente a fare schifo negli ultimi mesi perché ripeto, quando l'ho usato anni fa tutto ha funzionato benissimo, mi hanno contattato nel giro di poche ore addirittura. Adesso non vorrei che il servizio sia cresciuto così tanto, non riescono più a starci dietro e quindi lasciano tutto il lavoro indietro, però penso che sia inaccettabile dover aspettare 7 giorni e poi ripeto, ancora non mi hanno contattato quindi domani sarà già l'ottavo senza avere un contatto con nessuno quando ci sono dei prodotti e dei soldi di mezzo. Insomma, tutto subito al momento decisamente bocciato dal mio punto di vista, ma fatemi sapere la vostra esperienza qua sotto nei commenti. Un saluto e alla prossima, sperando che questa vicenda si chiuda nel migliore dei modi. Ciao da Riccardo